...accompagnando questi cinque ragazzi, oddio, ragazzi sì, che mi stanno accompagnando e che mi accompagneranno per tutto il tour, l'hanno fatto nel tour invernale, per cui, qua la chitarra elettrica, Gabriele, alle tastiere Francesco, batteria Giorgio, anche i controcanti, anche le voci, poi chitarra classica, voci, Andrea, e infine basso, basso insomma, Claudio. Mi sentite? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.